Salve gente, se qualcuno ancora aveva dei dubbi adesso abbiamo ancora conferma anche se molti dicono ma sì ma è un rosicone, è uno che ha perso il lavoro è uno che ha perso il ruolo e adesso vomita sulla Lazio di chi stiamo parlando? L'avete visto dal titolo delle dichiarazioni di Peruzzi che ha rilasciato in un'intervista per quanto riguarda quello che è la società ma soprattutto i personaggi lotito e tale andiamo a parlare un attimo, vi dico la mia prima però tu che stai dato questo video, se ancora l'avessi fatto ti chiedo gentilmente insomma siamo sotto Natale, fammi questo regalo prova a iscriverti al canale, potrai sempre disiscriverti quando vorrai però nel frattempo vai a digitare su iscriviti, clicca sulla campanellina per rimanere aggiornato su tutti i contenuti che poi non sono tantissimi se vai a vedere su questo canale e lascia un like ovviamente prima di abbandonare il video adesso insomma prima di lasciarlo allora ragazzi, è stata un'intervista interessante io per chi segue il canale già sa, ne ho parlato più di volte di Peruzzi per me era una figura che secondo me ci poteva stare nella Lazio è un carattere forte e questo inizialmente avevo pensato che poteva essere un problema con lo tito attare però mi sembrava che le cose insomma dopo diversi anni si fossero trovati degli equilibri, in realtà così non era abbiamo già visto un paio di anni fa un principio di abbandono da parte di Angelo Veruzzi che poi è ritornato sui suoi passi perché gli erano state garantite delle cose che puntualmente nuovamente non sono state mantenute e così poi ha abbandonato definitivamente oggi cosa dice parla di un lotito dove insomma gli riconosce tanti pregi anche se poi non gli elenca quindi è così, rimane sulla carta il fatto che abbia molti pregi ma che sicuramente ha dei difetti quello di essere possiamo dire non so quello che ha detto tipo onnipotente una cosa del genere ma questo lo sapevamo ragazzi per questo dicendo abbiamo delle conferme che l'otito pensa giustamente è padrone e quindi può permettersi di fare il padrone però di fronte agli altri Veruzzi dice chiaramente lui e Tari sono gli intelligenti gli altri sono nulla o gli stupidi della situazione beh questo mi è sembrato sempre chiaro anche se ovviamente così non è ci sono persone che potevano far bene ci sono ancora persone all'interno del Lazio che stanno lavorando ma sono situazioni poi dite perché tu non dici dei contatti che hai dentro a parte che io non ho il contratto diretto dentro la Lazio io ho un amico che ha un contatto dentro la Lazio e perché perché non fai nomi per questo motivo ragazzi perché quello di trattare è un attimo perché già la situazione cioè ci sono due che comandano sugli altri se poi questi altri insomma vanno escono allo scoperto ovviamente il posto verrebbe perso in automadio quindi bisogna solo ringraziare chi in realtà un po' così con coraggio ci date le notizie notizie che adesso ritorniamo al Peruzzi però vorrei anche dire perché adesso sto leggendo situazioni sto solo leggendo quindi non vi sto riportando nulla di ufficiale però leggo sicuramente l'avete letto pure voi se siete da Lazio e seguite le notizie da Lazio anche che ci sono delle situazioni un po' strane riguardandovi riguardando indovinate un po' chi Milinkovic e Acerbi ebbene sì Milinkovic Acerbi sembrerebbe da quello che leggo da quello che leggo che ci sono delle situazioni che Sarri non gli vanno bene né per quanto riguarda Milinkovic né per quanto riguarda Acerbi ma a caso strano io qualche tempo fa vi avevo fatto questi due nomi e mi avete bombardato le palle dicendo che ero io che per fare un click persone che ritengo anche insomma che hanno altri canali che comunque mi sembrano anche laziali intelligenti però mi venivano contestati che io inventavo notizie o pseudocontatti per fare dei click io da quel giorno non vi ho più portato nulla ragazzi perché poi ve lo dico una volta ve le dico due volte ve le dico tre volte le notizie poi quando mi veramente devo avere solamente una valanga di gente che non sa nulla ma pensa di sapere e pensa di poterti giudicare non conoscendoti ho evitato di portarvi altre notizie però l'ultima notizia che vi dite era proprio che c'erano stati seppur da parte di Milinkovic e Acerbi delle osservazioni per migliorare la situazione diciamo del gioco della Lazio dall'altra parte c'era un Sarri che però queste osservazioni non gli erano piaciute e gli atteggiamenti anche dei due giocatori non gli erano piaciuti avevo chiuso lì il discorso non l'ho portato avanti oggi a distanza di più di un mese oltre esce fuori che Milinkovic e Acerbi in realtà non hanno un rapporto idilliaco con con Sarri o soprattutto è Sarri che non ha un rapporto idilliaco con i due giocatori tant'è che addirittura ripeto qui sto leggendo ho letto oggi addirittura e ho sentito addirittura ci sarebbe l'idea che a giugno Acerbi potrebbe anche lasciare la Lazio Acerbi forse uno da Milinkovic e Luisa Alberto insomma nella grande rivoluzione quelli che sono per noi i capisaldi sono sempre stati i capisaldi i nomi più importanti in realtà con Sarri potrebbero rischiare il posto qui chiudo una parentesi ragazzi solamente perché ogni tanto me lo posso pure togliere qualche sassolino visto che poi come vi ho sempre detto io le cose ve le dico poi vedrete che nel tempo quello che vi ho detto piano piano uscirà fuori invece preferite attaccarmi comunque basta allora dicevo Peruzzi diceva che che appunto nella Lazio una cosa una cosa secondo me importantissima perché l'ho detto ridetto da quando ho aperto questo canale quante volte me l'avrete sentito dire ma sicuramente già dai primissimi video che ho sempre detto che la Lazio per me era evidente che non aveva nessuna programmazione veramente nessuna programmazione perché non si aveva proprio la percezione di questa programmazione tutto fatto a caso quello che serviva non veniva fatto gli acquisti che servivano non venivano fatti venivano fatti acquisti per altri scopi ed è evidente ed oggi Peruzzi anzi ieri Peruzzi in un'intervista dice appunto che lui ha notato che la Lazio in questi anni non ha mai avuto una vera programmazione e lo evidenzia molti di tutti dicevano sì ma adesso quello l'avevano capito tutti in realtà non mi sembra che l'avevano capito tutti perché poi quando uno parlava che non c'era la programmazione lo stesso lo dito lo stesso dare invece dicevano che era un percorso che la Lazio stava facendo di crescita era un percorso studiato ovviamente non è così perché gli acquisti che abbiamo fatto in questi anni l'anno della Champions dove hai la scarpa d'oro in attacco tu spendi 20 milioni per un vice immobile che poi è Morici manca di che è un fenomeno sono due anni che ti serve il difensore centrale e non lo prendi prendi Ode e a gennaio prendi Mosacchio al centrocampo che dovresti prendere un vice lei va già dall'anno scorso prendi Escalante e sulla fascia prendi Fares poi abbiamo ACPAC Pro a 13 milioni Vavro a 12 milioni i vari Beriscia i vari Ioni questa è programmazione no questa è semplicemente mettere delle toppe così economiche per tirare avanti la barca tant'è che lo dito infatti dice la prima cosa è tenere i conti a posto ho capito ma se c'è 25 milioni da spendere ci sarebbe anche modo migliore di spenderli e questo perché non si spende bene perché non c'è programmazione appunto altro discorso è quando Peruzzi dice nella Lazio e a Formello comandano solo Lotito e Tare decidono tutto loro e soprattutto proprio a Formello proprio a Formello dentro le mura di Formello comanda tutto Tare e purtroppo questo lo sappiamo e l'abbiamo visto perché tutto viene deciso da Tare e tutto passa per Tare e questo suo potere gli a Formello ha portato piano piano una Lazio secondo me sempre meno con tutti i problemi che ha meno concreta meno combattiva una Lazio che non vedo che ha perso negli anni lo spirito di competere e la stessa cosa abbiamo visto nella primavera dove anche lì tutto gestisce Tare una primavera che per due volte va in serie B che fa fatica a far uscire dei giovani dove i più giovani ancora non vengono presi in considerazione per passare nella squadra maggiore insomma tutto un processo che ovviamente non può tornare in modo logico per Tare perché evidentemente i suoi sono altri interessi quindi mettere giocatori di amici di chissà chi che gli mandano ovviamente lui mette tutto a sta schifezza dentro la primavera evitando che altri giovani crescano e avendo quei risultati perché non si fa programmazione per la primavera ma è un deposito di giocatori dove Tare chiaramente sta facendo favori ad altri così come poi ha passato alla prima squadra a fare la stessa cosa fare favori di amici e portare tutti i nomi che abbiamo fatto prima quindi Peruzzi per molti dicono Peruzzi ha detto quello che già tutti sapevano seppur tutti sapevano nessuno aveva il coraggio di dirlo o di chiederlo a Tare quantomeno adesso qualcuno ha messo in evidenza questa cosa ripeto i detrattori o comunque i sostenitori di Tarello Tito e i detrattori di Peruzzi stanno appunto dicendo è uno che ha perso il posto e adesso deve sparare in merda e deve spalare più che sparare spalare in merda addosso a Tarello Tito in realtà sta semplicemente dicendo la verità e mi dispiace che invece ancora oggi tanti giornalisti non prendono una notizia come una notizia insomma di una certa importanza usandola per andare a fare domande a Lotito e Tare e chiedergli ma come funziona la Lazio realmente ecco perché come mai gli acquisti di Tare non sono funzionali come come in realtà Lotito va dicendo che la Lazio fa gli acquisti che devono essere funzionali al gioco di Sarri o al gioco di Inzaghi prima alla società come mai invece non abbiamo dei giocatori che poi non riusciamo a rivendere che non che ce li teniamo qui come mai tutto questo schifo in realtà non non esce fuori ecco io tutto questo lo chiedo ai giornalisti a tutti quei giornalisti che girano il mondo Lazio e che in realtà fanno le domande di comodo e non hanno il coraggio di scoperchiare magari tante cose che magari oggi invece con le parole di Peruzzi che purtroppo ripeto non vengono prese per l'importanza che hanno hanno comunque un pochettino sollevato questi coperchi e fatto vedere un po' sollevando anche il tappeto quella polvere che c'è sotto ragazzi voglio sapere da voi se avete letto l'intervista cosa ne pensate e soprattutto secondo voi cosa succederà a Lazio da gennaio in poi perché ripeto è prevista e questo sono sicuro una rivoluzione ma una rivoluzione fatta con una vera programmazione o semplicemente dare un cerchio alla botte uno si dare un cerchio dare una botta alla botte uno al cerchio e tirar fuori insomma quello che si può facendo contento dare lo dito sarri e quindi facendo un'altra volta un miscuglio di roba senza una vera programmazione fatemi sapere la vostra lo rivedoci con un prossimo video di roba Grazie a tutti.